Con gli enti amministrativi, parlo degli enti locali, ma anche con le ULS, ma anche con le associazioni dei comuni, una sperimentazione di accordo sulla rigenerazione delle parti, sia industriali dismesse, ma anche urbane, che meritano di essere rivitalizzate per arrivare ad una vita sociale più buona di quella che noi abbiamo. Poi le politiche di genere, la contrattazione sociale, gli obiettivi di Vigilio Biscaro, Neoletto all'unanimità alla segreteria provinciale SPI CGL, con la presenza del segretario nazionale dello SPI Ivan Pedretti. Classe 1952, Trevigiano Doc, residente a Villorba, vanta un lungo corso sindacale a partire dagli anni Ottanta come componente del Consiglio di Fabrica, poi segretario provinciale della FILIS CGL, segretario della FIOM Destra Piave e membro del direttivo nazionale per passare alla FILEA CGL fino al pensionamento. A Biscaro il compito di guidare il sindacato dei pensionati nel segno della continuità con il suo predecessore Paolino Barbiero, militante storico nel sindacato della marca, alla FIOM, poi alla segreteria confederale, conclude il mandato dopo otto anni da leader dei pensionati. Le più grandi iniziative che voglio ricordare sono quelle collegate alla contrattazione sociale, dove abbiamo ridotto le tasse ai redditi più bassi, abbiamo fatto sì che i comuni guardassero con più attenzione ai bisogni degli anziani e delle famiglie più deboli.